Come va? Bene, tutto tranquillo. Decideranno giorno 1 se ammettere delle prove oppure andare avanti. Il giorno 1 ci sarà l'udienza, sciolgono la riserva di tutto quello che abbiamo chiesto oggi, diranno sia alcune prove sia alcune no, oppure diranno niente, si va in discussione. Discussione l'1, poi il 7 e poi l'8. Si decide sul film.